In questa lezione parleremo di come determinare l'ombra di una figura piana comunque orientata in proiezioni ortogonali, quando essa è investita da un raggio luminoso di inclinazione qualsiasi. Naturalmente utilizzeremo un'illuminazione parallela, cioè con sorgente luminosa naturale. Prima di procedere è necessario conoscere il procedimento che permette di determinare l'ombra del punto, perché l'ombra delle figure piane si ricava per punti. L'argomento è stato trattato in un precedente video di questo canale YouTube, che vi consiglio pertanto di andare a riguardare. Vengono dunque assegnate le proiezioni ortogonali di una figura piana, nell'esempio un triangolo, comunque orientata, e l'inclinazione del raggio luminoso. Essa è rappresentata da una retta generica, che in questo caso collocheremo a sinistra della figura. L'inclinazione delle due proiezioni del raggio può essere scelta assolutamente a piacere e può essere diversa per ciascuna proiezione. Mandiamo dalle prime proiezioni dei suoi vertici delle linee parallele ad R' che è la prima proiezione del raggio luminoso. E dalle seconde proiezioni dei suoi vertici delle linee parallele ad R' che è la seconda proiezione del raggio luminoso. Esse sono le proiezioni ortogonali delle rette d'ombra passanti per i vertici della figura piana. Ne determineremo le tracce, con la stessa procedura che abbiamo visto nel dettaglio nel video dedicato alle proiezioni ortogonali della retta e nel video dedicato all'ombra del punto e che potete ritrovare all'interno di questo canale YouTube. I punti contrassegnati dal pedice 1, cioè le tracce delle rette d'ombra sul P.O., sono le ombre dei vertici della figura sul P.O. I punti contrassegnati dal pedice 2, cioè le tracce delle rette d'ombra sul P.V., sono le ombre dei vertici della figura sul P.V. Uniamo tra loro le ombre dei punti sul P.O. e in seguito le ombre dei punti sul P.V. Sappiamo, perché lo abbiamo visto nel precedente video di questo canale YouTube, che dell'ombra di una qualsiasi entità geometrica sul P.O. è reale solo la parte sotto la linea di terra. L'altra parte è virtuale. Dell'ombra di una qualsiasi entità geometrica sul P.V. è reale solo la parte sopra la linea di terra. L'altra parte è virtuale. Terremo quindi, delle due ombre, solo la parte reale. Come si vede, quindi, la figura piana getta ombra in parte sul P.O. e in parte sul P.V. Ma ci sono casi in cui l'ombra reale della figura piana cade solo sul P.O. o solo sul P.V. Questo dipende dalla posizione della figura piana nello spazio, cioè se è più vicina al P.O. o al P.V. e dall'inclinazione del raggio luminoso. In conclusione, quando l'ombra dei vertici della figura cade sullo stesso semipiano di proiezione, se ne otterrà l'ombra congiungendo le ombre omonime dei punti. Una delle due ombre è quella reale, l'altra quella virtuale. Se invece la figura piana getta ombra su semipiani diversi, occorre determinare le due ombre intere su entrambi i piani di proiezione. Saranno reali solo le parti positive delle due, cioè comprese nel primo diedro. È da notare che quando l'ombra della figura piana si trova in parte sul P.O. e in parte sul P.V., le due proiezioni d'ombra si incontrano sulla linea di terra. Le ombre di uno stesso lato si incontrano sulla linea di terra. Se la figura piana è parallela ad uno dei piani di proiezione, in questo esempio è parallela al P.V., la sua ombra su quel piano è parallela e uguale alla sua proiezione su quel piano. Concludo facendovi sapere che do ripetizioni su tutti gli argomenti di disegno tecnico, sia dal vivo che soprattutto online, agli studenti delle scuole medie, delle superiori o universitari. Chi fosse interessato a ricevere informazioni a riguardo, tariffe, disponibilità oraria, metodi di pagamento e di svolgimento delle lezioni, può contattarmi attraverso l'indirizzo e-mail presente qui sotto, nella descrizione del video. La trascrizione di ciascuna video-lezione di disegno tecnico presente nel canale è invece riportata nel mio blog, il cui indirizzo è aliceappunti.altervista.org e non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.